e buon pomeriggio amici di ciao como siamo vighizzolo qua vedete la capannina degli alpini a vighizzolo e con noi ovviamente a natale non possono mancare di zampognari ve li presento ciao pietro buon natale buongiorno a tutti da franco e da enzo ed è cosa ci fate sentire a tutti gli amici di ciao como il gruppo zampognari di vighizzolo di cantù agli amici di ciao como faranno sentire la piba la famosa piba canzone per antonomasia che indica l'arrivo del natale bene a 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 con me ci sarà il lancio dei palloncini con le letterine dei bambini per Babbo Natale è tutto da Mario Camani una buona giornata a tutti